In completo bianco l'antella di mister Stefano Alari. Alla sinistra in completo giallo-blu la caposclassifica il Figline. In profondità per il colpo di testa di Vangi che ha la possibilità. Il ruolino di marcia della formazione. Attenzione ancora Vezzi. Attenzione a benvenuti in area. Il tocco all'indietro per il sopraggiungere di Marabese il cui destro va abbondantemente fuori. Sul fondo ritorna sul sinistro tiro di ribattuto. E poi allontanato. A presidio della linea ancora un bellissimo controllo e tiro di sinistro di Vezzi. Bancelli murato da Sireno. Vangi rete! Ha segnato Vangi per il Figline su questa insistita azione. Si sblocca il risultato. Chi prova sottili ad andare al tiro? Minocci e c'è una posizione di fuorigioco di Bandini. Dito Bartolini. Il colpo di testa è proprio di Matteo Mignani. Ed è del recupero degli innocenti. su il colpo di tacco! Il colpo di tacco di Vangi! Sireno tocca. Ghimenti conclude. Bancelli in area. Mignani la parata. La parata di Burzagli. e l'arbitro su questo episodio manda le squadre negli spogliatoi. Per due reti a zero. Tuvangi. Vezzi. Deviazione. D'Ambrosio tiene la palla lì. Ripreso il secondo tempo con lo stesso piglio del primo. Vezzi. Tiro di Vezzi. A fil di palo. Prova a girarsi. Controllato da Saitta. Il pallone su Mazzoni. Bancelli. Calcio di rigore. Rete. Spiazzato. Burzagli. Partita virtualmente riaperta. Cambio di gioco su Sascha Manetti. Il tiro. La parata di Burzagli. E dietro. Attenzione. A Saitta che manca un intervento. E per poco Bandini non ne approfitta. Ha ribattuto il suo tiro. Per gli standard elevati che conosciamo. Continua. Con Privitera. Sottili. A non essere propriamente tranquillo e ben disposto. Sia che aver visto bene. Benvenuti. E Sascha Manetti. Che... Mazzoni. Prova il tiro cross. Liberati. Colpito da degli innocenti. Sottili. Cambia gioco su Mazzoni. Mazzoni controlla. Spalla alla porta. E' affrontato da Banchelli. Palla. E su questo episodio. L'arbitro fischia la fine dell'incontro. Che si conclude con la vittoria del Figline. Per due reti ad uno. Dopo di essere stato imbagliato. È una grande squadra. Perché devo fare complimenti. Perché è veramente una grande squadra. Che con noi non c'entra niente. Partiamo da questo presupposto. Hanno giocato perché hanno giocatori importanti sulla nostra paura del primo tempo. Perché è proprio una squadra impaurita. Infatti basta vedere anche i gol. Poi dopo è visto. E l'incazzatura dell'allenatore. Una cosa o un'altra. E quando c'è da buttare il cappello per l'aria. Poi questi ragazzi mi dico sempre. Sono incommiabili sotto il profilo di dare quello che hanno. L'hanno dato. E riescano talvolta a mettere anche in difficoltà uno scadrone o i figli. Ho fatto un'ora come si doveva fare. Da squadra vera. Siamo noi in un campo difficilissimo. Forse uno dei più difficili del girone. Consapevoli di questo. Ma forse anche grazie alla grande vittoria di domenica scorsa. Sull'onda e l'entusiasmo di queste ragazze. Abbiamo fatto un'ottima prestazione. Peccato averla fatta per un'ora. Peccato. All'inizio del suo tempo. In quelle tre o quattro occasioni una volta. Non essere riuscita a chiudere. Perché dopo è bastato un episodio. E si è rimesso giustamente in corso una squadra di Mellantella. E gli ultimi venti minuti. Ha tentato tutto per tutto. E ci ha creato di grossissimi problemi. Perché comunque sia. Se trovano entusiasmo. Sicuramente se si va sui 3-0 muoiano. Se trovano entusiasmo. Sono una squadra vera.